amici tecnoandroid.it benvenuti oggi andiamo a vedere come si controlla se il vostro dispositivo ha i diritti di root attivi operazione molto semplice andiamo sul google pressore e cerchiamo la parola chiave root e compariranno una serie di applicazioni dove abbiamo tra le prime root check andiamo subito ad aprirla in questo modo installiamola apriamola e abbiamo la possibilità di vedere immediatamente se il proprio dispositivo ha i permessi di root attivi in questo caso avremo logicamente tutte le informazioni se il vostro dispositivo ha i diritti di root attivi potete accedere a una serie di funzionalità che è aggiuntive e che potete utilizzare senza alcun problema per oggi è tutto continuare a seguire sul nostro sito www.tecnoandroid.it e se vi è piaciuto il nostro video iscrivetevi al nostro canale youtube grazie a tutti per averci seguito